ciao a tutti tarta amici di tarta youtube tv benvenuti in questo nuovo video io sono alistane oggi siamo su gangstar new orleans un gioco che se avete windows 10 avrete probabilmente notato tutti andate nello store potete scaricarlo giocarlo tutti arrivando dal settimo livello dal settimo livello in poi ancora sto al primo iniziato a trocarci da poco si può potremmo toccare insieme online spero di arrivarci presto ma adesso iniziamo a giocare praticamente il gioco è tipo gta vedete primo livello sono ancora si gioca facendo delle missioni però siccome ancora non sono di vasi possiamo andare a ritirare ogni giorno tirano di vacilato il davvero il questo è un'altra volta io ho capito inizabile un'altra volta secondo il giro di me un'altra volta Sì, non è vero. un inventario, vediamo se possiamo potenziare qualche arma, allora la carabina è stabile un po' la carabina un po' la carabina un po' la carabina questo è un po' di anni che ho conquistato fino ad adesso, ma è un po' di anni ma volvelo brutale non ho mai ancora usato io sto usando proiettile e compressore e puntura diecheggiante la carabina non tanto mi piace, la carabina mettiamo, questo è l'usso andiamo, la carabina e poi l'incarica presto, vediamo un po' i giochi che succede, perché sono usciti ecco qua, iniziamo a carteggiare un po' ecco qua, iniziamo e qui e qui 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 non c'è già un po' un po' un po' E' un'attività di mettermi le porte, e' un'attività di mettermi le porte. E' un'attività di mettermi le porte. E' un'attività di mettermi le porte, e' un'attività di mettermi le porte. E' un'attività di mettermi le porte, e' un'attività di mettermi le porte. E' un'attività di mettermi le porte. Sì 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 No Sì Sì Sono un cretino, un deficiente, me lo sono finazzo Dopo guardando l'aereo non mi sono accorto di dove andare Posso andare direttamente alla mia villa No Sono un po' più normale Allora Fanno un buon ritorno E poi entro Questa forza è stata una fila di soldi aperta Perché io non ho paura dei lavori La lascio aperta la cassaforta Grazie a tutti. Non c'è un letto, io non dormo, ma manca una camera da letto che non ho capito dov'è. Stato profumatamente devo fare per questo, io mi sono dimenticato di costruirmi una camera da letto. Sì, stiamo su di là. Sì, sono delle cose, porti un po' sul magazzino delle armi. Stiamo a vedere, non vedo, non vedo, non vedo tutti da portare. Ah, posso lasciare un'arma qui? No, non vedo tutti. Perfettivamente oggetto. All'altro, e lì la sto prendendo anche in mano. E' un bel'arma. Un bel'arma. Un bel'arma. Un bel'arma. Noi, cazzo, fammio. Qui di là c'è la possibilità, infatti puoi postituire una nave. Se non l'ho fatto, mi sembra che ci vogliono altri soldi. Vediamo adesso. Io quello che è venuto a fare un'ora già c'è più grande. Qui c'è una delle mie macchine. Fa schifo lo so ma quella mi hanno dato come una macchina. E' un altro pezzo di cable, attenzione! Non avevano dato. Guardate, dentro per andare su. Questi non avevano dato. Adesso non riesce a metterlo. Potenziamento di mille. ma non vedo il mio filmato è troppo grande e non vedo il mio filmato è un po' è semplice perchè non è passato ma non stai un filmato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In un altro video iniziamo a vedere qualche missione. Quartire al distale, questo è il mio quartiere. L'ho conquistato. Questa è il mio quartiere. 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 Questa è il 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 quartiere. All units, be advised, not in situation. All units, be advised. non c'è l'ultimo non c'è un peggio da strada Sì, non c'è più da l'arrivo, non c'è più da l'arrivo. Grazie a tutti. 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 Ciao.